Poi forse mi usciva Forse C'è no perché inizialmente quello era Dove scriverlo così anche io lo scrivo Però ogni volta facevo la prova Per vedere se spuntava R6 R6 Domani torna a casa Il culone Ma vedi Domani torna a casa Dai volevo la La gif Dai Giacomo torna a casa Torniamo a casa Dai Giacomo torna a casa Non sono stato io No no sul l'è Perché qua arriva eh Voi non ne avete tre I like a me I like a monkey I like a whale Perché Marlena è nato Ora faccio come Zenzi Cos'è questa mappa E' bello Ah no c'eri vero Tu ieri c'eri Cos'è questa E' yakt E' yakt E' yakt Zenzi Ma l'ha scritto in chat Ma zenzino C'è zenzino in chat Si so Non posso tabbare Niente Cazzo ci stalker Live Subito Non c'è un gatto Da fare Ancora la mega sfida A Starfighter Giuro che prima o poi Lo invito a casa mia Solo per fare la mega sfida A Starfighter E poi lo rimando a Bologna Di dove sta Ho la febbre Ho la febbre Come? Come? Niente è finita Perché mi fanno La pubblicità di LOL Guarda che frenghi i personaggi Provorca troia E' like a whale Guarda Guarda che belli I personaggi Porco Poi vedi mondo Quello che uso io Che non viene reworkato dal 2009 Quindi è bruttissimo Guarda qua c'è cosa Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Grappa Blitz Ah ma tu quindi Non stai vedendo La pubblicità di LOL Vero Quello di wild drift Si bravo Quindi quello per cingulare E' sperto ormai E' spuntato anche a me Sai con me What? Che lag No Cosa c'è che non va in questo buco Che mi hai fatto andare indietro Spacca un po' meglio No Ma tu riesci ad entrare In questo buco Ma io non posso Com'è possibile? Me ne sbatto il caccio Ma io bello suo mio Ma io Ma facciamo Quando è il mio piccolo amigo Perché sei una piccol'amico? piccolo pampino vai entra troppo easy cazzo però oh 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 troppo facile sto gioco se fosse cretino imbecille che è successo si aveva rotto la barricata si era fermato davanti alla barricata l'ho ucciso giustamente io che passano retto maricata non è che fanno il giro poli merda ma il cazzo esci l'ultimo nemico rimasto dei difficili tu ci esci già siamo sotto a sinistra non ti cagare sono alle porte o fanno il giro e sono intelligenti no è ancora in quella porta ho sentito una nomad eh si perché nella porta qua a sinistra non so se fai il giro perché è intelligente io la sto facendo intelligente sto no è una rincoglionita forte porca troia però vedi che è servito il mio buco alla fine ma non ho parole questi sono rincoglioniti e intanto i nostri relati ci sono morti ma se a sapere che era proprio davanti a me gli sparavo in prefire io la uccidevo stupide della mia vita e io ne ho fatta una su una rincoglionita che ha scavalcato senza guardare proprio le scale si sa che lì non si entra non è che dici vabbè faccio gioco costa 2.2 milioni il sottomarino sensi ne ho tre sensi ne ho zero lo spessi tutti per comprare la con tutte le modifiche le più di 4 milioni ma tranquillo forse ne ho anche qua difendete le bombe oggi lo apro e mi prendo le ricompense non mi danno altri 200 mila dollari perché sono gentili a me no quasi 4 milioni mi si arriva 4 milioni non li sono tutti per il ma col cazzo ma sono missioni il sottomarino scommetto no mi auguro figa 2 milioni e 2 ma mi direi che non c'è attiva perché c'è lo scudo ma porca troia si 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 che cazzo è che poi lo mette dall'altra parte lo ha messo zonny blitz ehi ho sentito la squadra d'attacco ha trovato una bomba preparare le difese ma porca troia ma quanto devo stare vicino beh ma non avete barricato il garage il matic rompe la garage già ha fatto i buchini ha fatto hanno romputo tutto da garage siamo nella merda ok uno l'ha ucciso perché è un minchione Fruzza era un minchione pure Sono tutti dei minitoni I'm happy I'm happy I really got a gun sunshine Everybody Stanno sopra di noi Non c'era uno che lo uccide Eyyy Sembra dalla porta che avevo ucciso quel coleghino di Fruzza Controlla quella che io ti controllo le scale Non bisogna stare lì Non individuarlo Ecco il robot E' a caccare Nomad credo sopra Si infatti Controllare la porta Vabbè questi qui non sanno giocare Dai Fush Te la controllo io Questo non più tattico Nucleare Però ti controllo anche le scale Vabbè io controllo le scale No Alibi non devi andare davanti alla porta Vedi Alibi c'è morta per la terra Morto E' il disinnescatore lì Sto lontano tra lo stesso Quindi è rimasta Alibi Come si chiamano? Nomad sopra No no ma sopra l'ho scogliata Che paura Bene dai Ma guarda quante rincoglioni da quello sledge Ma si vede non sono buoni Sono pure cagare Ho avuto il tempo di cagarmi E poi spararmi Ho mai superato per sledge di una kill E' di un botto di punto in realtà Ma in realtà lo sai che io ne ho fatti Uno Due Tre Quattro ne ho fatti Eh poco fa ne ho fatti tre Eh se non mi uccidevi quello lì Mi facevo l'ace Però vabbè Fotte sega L'importante è l'abbiamo vinta Ma che sti facevi se uno sopra le scale l'ho ucciso io? Appunto Io ho ucciso Nomad sopra le scale L'altro sledge sopra le scale Eh Ah quello era giusto Fuse che è appena entrato E E' l'altro tizio che ha lasciato il disinnescatore Me ne mancava uno Che è quello che è l'unico che ha ucciso tu all'inizio del game Comunque ci ha messo un botto di ore per arrivare solo all'isola Due ore Che cazzo Com'è possibile ci ha messo due ore? Che missione è l'unico? Ma vedere l'isola nel senso di andarci fisicamente O perchè nella missione per fartela vedere? Sono sopra Svolgo un po' E dopo gioca Fesso il sordo Ciao Oh L'ho sentito sopra Non è possibile Siano sotto Porco Ma Ciro l'angolo Ce ne ero 35 Scendi lion Scendi a sinistra la scala troppo tardi un po' che dopo gioco al pesos temico quando poi dopo gioco al pesco soltanto sentendo quella canzone mi sento vecchio dentro da qua da qua non credo che la guarderai c'è qualcuno vedi qualcuno con i tuoi piedi pazzerelli no un cazzo proprio c'è qualcuno attento johnny c'è blitz c'è sotto le scale non c'è nessuno possiamo fermarti sopra non so ed è quello lì ok stanno tutti entrambi lì ragazzi fatemi capire qualcosa porca troia qualcuno mi ha sparato da dietro le spalle non ci stai capendo un cazzo ragazzi io vorrei scappare e passare da sopra ciao il mercatore è stato recuperato vengo anche io voglio uscire da qui voglio uscire da qui vieni qui vieni qui qua c'è una scala bravissima io stavo andando da un'altra parte ok il clash l'hanno ucciso però vabbè aspetta aspetta c'ho super shot vuoi scendere da una botola ma poi tu quella in quella stanza no però c'è una botola c'è una botola pensano ancora che siamo in quella stanza aia e di passi se c'è qualcuno ma facciamo anche nel corridoio qua nella foto c'è ancora qualcuno c'è lì in fondo al corridoio c'è qualcuno eh cazzo ma gli ha preso solo oh cattro ho visto un attimo uscire poi se non ci sono ripresi bravissimi tu guarda come si cagava ma se entravamo da dietro chissà controllando dietro se dove entravamo da dietro era ancora it's better si era ancora meglio da dietro come ci sono da changa sono felice se mi riprendo oooh ma basta per darmi il laggio non lo voglio non lo voglio critico fumo un po' e dopo gioco appesso se mi riprendo oooh yes eh posso dire che chi cazzo scelgo? nooo ho più pieno la roccia abbiamo un po' il suo po' di fortale prendo modo ok così faccio cagare e mi insultano oh no anni why oh no anyway all right oggi è il 17 si domani è il 18 hai perso il calendario dell'almento? no dopo questa partita lo ha lo senti? c'hai l'edita cianca sono sotto io ma sotto 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 sono in garage ma non abbiamo un brice io sono un casperato per sempre dove dove? nooo non è vero o forse si si di lato di lato fai di lato non posso andarci di lato guarda ancora 5 secondi ci salta? non saltare così salta per sopra se ci scassi io ci sono finito lì una volta così dovevo fare faccio puttana ti ho visto che sei qui ciao runny ahahahah tutti appena girate l'angolo sono hai trovato una bomba diamo un'occhiata in giro allora ma nascimi ha fatto bel centipede di persone che sei dai ma è vero è antiproiettile quello schifo ne muo da sopra noi non muo da sopra dai che hai la telecamera ma questa la vede romperla è stato tu a sparare eh? no andiamo porca troia che paura di merda che mi metti tu ma non sono io a sparare tu sono stato io a sparare potete aprire la camera sai che mi hanno spottato eh? andiamo a ricaricare ma tipo che sono così svegli si ma non così tanto te li spotto eh così vai avanti tu povera runny che sdong ragazzo è sto cosa l'amorella ma non l'ho visto ma completamente uovo caricatore vai scendi che ti ti seguo mi spattolo di botte aia di morte puttana scendiamo da qui cambio caricatore ma non mi sono tolto la gu ma scusa eeeh vatterà ma cos'è? no no idea di merda c'è no no torno su vai che scontare te ogni tanto non fa bocca se c'è una botola la facciamo fuori il problema è che io non ho cose per rompere aia aia è sdraiata ma dove? nella stanza è sdraiata sembra morta ma è sdraiata ma questo quanto è deficiente nella stanza a sinistra è sdraiata sono sdraiata a sinistra mi metto questo c'è tu ti sdrai in teoria colpisca sono sdraiata aia ma cazzo sto lo cazzo è la mesa aia fare ma anche a lui vaffanculo sto stronzo ma veramente io non capivo dov'era messa ma cagare vabbè tanti colpi aveva quel c... quel... la R... beh quello li o se mi son passato perché? ma per quanti? per quattro punti? ah 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 me la dito il tuo scudo di merda che è separato sicuramente un colpo e ti ha dato dieci punti e mi sono passato per quelli solo che andrà dell'avvento dai oh no ecco fatto anche meno kill di vetzi cosa ggwp è un semplice ventono stronzo poi mi raccomanda eh avevo 5 kill avevo io ne ho 6 ma che cazzo di vami vedere ne ho 6 raccomandato di merda ne ho 6 non c'ho manco un assist però che primo scusa io si ma chi è il più pirla che diceva no sicuramente non sono così intelligente ed è uscito legion tutto convintissimo ci è morto? si perchè l'ho ucciso io però se non eravamo morti entrambi io gli ho sparato ciccio e io l'ho ucciso però vabbè perchè gli hai sparato per primo questo rombo arriva da me ma va che cari c'era un suono se era uno bravo sicuramente non credo così con l'ho adesso credo così con l'ho eravamo morti entrambi quindi erano delle serie lo stesso Adesso gli tolgo La parola Vorrei ringraziare tutti Te no Mi fai schifo Sto dicendo non ce l'ho capitato Infatti non ce l'ho capitato Mai Facciamo Che sono pazzo Quindi al mio microfono mancano Uno, due, tre, quattro C'è sette giorni al mio microfono Lui non è al Natale È il mio microfono Sa Zenzy Dobbiamo fare il video di Natale Ci stiamo riducendo sempre l'ultimo momento Col video di Natale Ma non riavrai mai la tua dignità Ma perché Zenzy è così Zenzy cazzo È speciale per un certo senso Ultima volta l'hai chiamata Zenzy Che personale Quindi Ricordiamo come l'abbiamo incontrato Sì sì Quel segno rosso è semplicemente speciale Non è che ti invado Vabbè Oh Oh Pubito dopo Oh Comunque non la vedo così a questo emoticato Però vado avanti È la rana Non ho la rana Quella che ti ho detto che ha gli occhi piccolissimi E fa Ah Che è lei Perché cazzo c'è l'emoticato Ma non lo so Però è la rana Ma non lo so Ma va bene Allora Ma posso così Stanno tutti sopra Amici Tiro solo la bombe Andiamo Ciao 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 Bella Bella Ciao Mi metto nella volpe Nessuno Fox Tango Tango Cazzo Mi f*** mi vede nessuno Ricarico Lmao Andiamo Sì però cazzo Voglio fare una cosa Vediamo se sono abbastanza bravo Se loro sono abbastanza idioti Arma nec Drone attivato Trotut car Per un attimo pensavo fosse stato a chi Poi non lo è stato Che fannammo Che fannammo Sì sono abbastanza bravo Cazzo Ma perché lì Il bisnescatore Porta la puttuna Guardate che stronzo Freschi scampi Vediamo chi c'è lì Pianti Luca Sei per me Pippi Numero uno Vabbè io passo da sopra Ma perché buttarsi non conviene mai Non posso passare da sopra È chiuso Ma scala ragazzi Meno figa Fatemi entrare almeno Io sono entrato Però ho fatto la kill ad hoc Che gente sarebbe fiero di me Ma porco Quel d'occo però era stupido Però Poi passi un libro per favore Me ne puoi fare un libro per favore Energia Poi po 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 Casuale Anche io casuale Vabbè non c'è stato un po' di bisogno delle pace L'ultima volta che non volevo prendere glaz Ho fatto il devasto Ho fatto tutti una kill tranne me che mi avete lasciato fuori Ho perso io Il mio 54 No eccolo l'ho recuperato Era i miei pantaloni praticamente Chi ti vuole nel mezzo ai guai gli scogliatoli dentro i pantaloni Prova a muoverti come faccio io gli scogliatoli Manta tu Energia Ma perché sono mutato eh Armanek Porta di quella puttana Che detto Ho detto se mi passavi il tuo calibro è 54 No, è presente quelle cose che si mettevano nelle grucce per dire il peso dei pesi Aspetta, aspetta, ti faccio una cosa Era una battuta bellissima sul pene No, no, non lo fa più Ma che palle Non lo fa più, Samu Non lo fa più No, ti fai male, che fai scherzi No, ti fai male, che fai scherzi No, no E questa era l'altra volta che l'hai fatto a cazzo Sì, certo che era intenzionale Non sono qui, sono in garage Devi recuperare il disinnescatore Hai trovato la bomba Arma, non è Me ne vado Sti cavalli di San Vento Caccio sei morto Secondo te, con la mia bomba Ma perché Non mi rianimare Non lo puoi uccidere Cioè, dopo Oh cazzo, sta succedendo qualcosa al tuo ACOG Pepepepe Oh, il tuo ACOG è molto strano Bliet No, bliet Io ma sto con un cazzo Dai, sai che è lì Vai in pre-fire Troppo alto, troppo alto Troppo rincogionito Ma rimane solo quel tizio? Ecco perché non faccio le cose con il mio account Non possono stare Cinque minuti Ogni cinque minuti a dire Ma tutto è controllato No Ma va, entra Ti pare che avevo paura io Entra E c'era anche morto Per non avere paura tu Bru Planta, bru Bomba individuata Ma il cazzo fai se è a destra Ma ti regalo un paio di cuffie Che vuoi? Oh oh È morto L'attaccante è stato eliminato È veramente morto Io voglio giocare con Zenzio, va bene? Avremmo vinta questa puntita Ma tu sei entrato troppo sicuro Ma a me mi ha ucciso Non mi ha fatto fare le mie cose Non mi ha fatto fare Tu non meritavi Ma che a me me lo meritavo Ma ti pare? Io me lo meritavo l'altra volta Che eri tutto rimbambito Eh perché Eh beh Qua non eri rimbambito Tu sei un incoglionito qui Quello, là facevi il coglione Come ho fatto i coglioni? Eh ma ti risparo E tu non puoi sparare me Questo sei convinto di questa cosa? Eh se spari muori però Appunto Ma no Difendete le bombe E allora barica tu Valkyria Hai fatto di f***mi i muri? Beh tu ne conosci i muri Valkyria Fagli li baricare C'è vero C'è vero Valkyria C'è vero Valkyria Valkyria Centro Ah Gnomi del lager questa è l'esercito Oh bello malizia Ci siete già voi due sopra, allora non mi vado sopra Una mano a Maurizio Che bordello Mamma mia, cheat mode attiva Chiryo in Satsuki Utente perfette Bella sledge Bella sledge Che paura che mi hai messo prima Non so perché non abbia ricaricato anche lei Però 3 assist Eh sì, che vuoi Hai presto 3 assist Mi fa schifo Alido Doc ti piace di più? Doc, se vai a terra puoi fare Heroes a Nevada No, no, Doc mi fa meno schifo Mi fa meno schifo Guarda, c'è il mignolo balonzolante Ce l'ho congelato, mi sta per cadere A me c'ho tutte le dita fredde Dovrei dagli fuoco per riscaldarle Che male Troppo vuoi una cura No, l'ho fatto L'ho portato da casa Ma Tieni, cosa va bene Perché potrei farlo io Se un robot lo fa meglio No, ho sbagliato Io sono guardato da solo Cosa vuoi fare? La userò bene anche io Ma se a me inizio partito N'è entrato nessuno Ancora Che tv mi faceva 5 secondi Questa è la tv Quella tv Che tv Ma infatti io ho sentito Betty V mi faceva cagare Nessuno odiava la tv Figlia di una grandissima mignota Acqua sporca Acqua sporca Posto Perfetto Bene però Bomba mia Che fucinato Io ho dato Allora ragazzi Che lampadario di merda Allora ragazzi Il mio stomaco Sto abbrondolando Ma male 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 Ma sei mangiato E appunto Oh no Deve cadere a voi Che intorno di merda Quanto bordele lo stanno facendo sopra me Stanno facendo Eh c'è la botola Io ho messo il coso Ah sì il cazzo però Ma era solo in testa Io ho messo il coso Non li ha bloccati 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 C'è anche montagna E' quella sinistra Che non ha visto E moriamo Come è entrata Quella sinistra Ti hanno rotto il coso Ma l'ha trivellato proprio di colpi Non l'ha lasciato vivere Ma quanto per il cazzo Arma NERC C'ho la NERC Facciamo il cazzo Cazzo fare Un'ora e quattro minuti Boys E sappiamo che gioco è E scopriremo che la lista Era un'inculata Dai 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 Sarebbe meglio De no Perché ci darebbe Tante info Sì appunto Però ci inculiamo Perché la lista è finta La Ma a me Basta solo Che mi dà Il DLC De farming simulator Io sto a posto Ma non c'è Il DLC De farming simulator Lo so Ma se lo dà Non succede Ma se succede Si ritorna Con le patate A Mark non piace Consiglio di non comprarlo Me lo barichi là sopra Vai là sopra Mi barichi Hai da fare Robottino Hai da fare Robottino Me 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 Non ripinghi per favore La squadra d'attacco ha trovato una bomba Che ne ha distrutto una Rui? La squadra d'attacco ha trovato una bomba Sono fatto la Rui Che ne ha distrutta Guarda Non posso riprenderla Mi prendo più la porta Ma recuperi un libro per favore ENERGY Stanno entrando da qui Stanno entrando da qui Stanno entrando da qui Stanno entrando da qui Stanno adattando la rotta Con fermi Dalla Boyce Guarda questa Che ne frega un cazzo Deve pareti Cazzo sono entrati dalla porta Porco Vabbè 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 sono un coglione Un operatore alleato rimasto Porca troia c'è stato troppo a ricaricare GG Che ansia però Vincidori Ah io non ho fatto male E niente ci salutiamo qua Babà Addio 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 Addio